Infrastrutture intelligenti, le reti innovative delle città esistenti, il terzo evento presentato all'officina del senatore Luciano D'Alfonso che si svolgerà lunedì 29 alle 16.30 nella sede del Tribunale a Pescara, tra i relatori, il ministro Carfagna ed altre personalità di rilievo, come ci dice Marco Presutti, Europa prossima. E' la terza iniziativa nel ciclo delle iniziative di quale città, questo progetto che stiamo realizzando a Pescara, l'idea di creare una carta di Pescara delle città attraverso lo sviluppo di alcuni nodi tematici. Ora ci soffermiamo su un elemento strutturante della città che è l'elemento delle infrastrutture. Le infrastrutture ovviamente volte al futuro, allo sviluppo, in questo momento tutto sommato singolare in cui per via dello sviluppo tecnologico uno degli elementi costituenti della città che lo spazio sembra venire meno come categoria è da un lato e dall'altro invece la pandemia ci ha mostrato il bisogno di uno spazio più ristretto in cui confinare o svolgere certe nostre attività ecco che probabilmente lo sviluppo delle infrastrutture, il potenziamento tecnologico, l'innovazione può diventare un elemento, può e deve diventare un elemento decisivo del nuovo essere della città. Diversi relatori, il docente dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Certo, ad iniziare dalla Ministra Carfagna, la Ministra per il Sud e per la coesione territoriale e attribuiamo un grande valore alla sua partecipazione perché sui temi della coesione si potranno sviluppare adeguatamente i progetti delle infrastrutture intelligenti di cui si dibatterà nel convegno. Sarà particolarmente gradita la presenza di tutti gli ospiti, mi fa piacere ricordare la presenza di Profumo, l'amministratore delegato di Leonardo che in tema di infrastrutture intelligenti sicuramente avrà molte cose da dire. Mi fa piacere ricordare anche la presenza di altri relatori, penso ad esempio al professor Savona, il presidente della Consob e soprattutto poi mi fa piacere ricordare il coinvolgimento di tante università. Dalle nostre università Chieti-Pescara interverrà la prorettrice Vicaria, l'Aquila interverrà la rettrice Merita e poi avremo l'Università di Brescia con il magnifico rettore, il suo rorso da Benincasa con il magnifico rettore e ancora l'Università di Verona.